prova bene adesso è arrivato il momento per tenere queste cose fratelli cappadonna ringraziamo sempre ricordiamo ovviamente i punti vendita di calzaginone mineo e piazza armerina con la prova ogni volta mi viene di mettermi tipo comoda in queste cose però no che poi nel video si vede tutto cioè nel senso che ci sembriamo voi si lasciatissimi allora queste cose non si fanno cerchiamo di questo te l'ho chiuso un momento che cosa vuoi quello che vuoi per te da pasticceria a gulino da dove parto da qua e adesso ok a riparare indietro perché io faccio finta di cantare fratelli a gigornici l'altro qual'era però perché sono due a gigornici e artem ci introduciamo il fatto che ho fatto dell'attore perché nasco anche attore per caso tutto per caso attore canta storie adesso vediamo insomma mi spiegherai l'attore beh lasciamo questo magico momento walk in progress dance walk in progress work in progress dance con marcia alessia tra poco sariso staccate i vostri cellulari passate non ce la faccio di fare un messaggio di questo serio alle famiglie come diciamo i pirloni ho ho i ho non s Grazie a tutti